E' polemica dopo il match valevole per il campionato di Serie B maschile di basket fra Virtus Rechi Salerno e Juve Caserta giocato al Palazzauli di Battipaglia. I tifosi della compagine ospite infatti hanno danneggiato in numerosi punti l'impianto, accendendo un fumogeno a loro arrivo che ha annerito le gradinate, sfondando la balaustra che separa il parchè di gioco dalle tribune e distruggendo i pannelli delle foto storiche della società. Mai vista tanta violenza in un palazzetto dello sport, afferma il patron della polisportiva battipagliese Giancarlo Rossini. Il basket è uno sport sano. Questo è il ringraziamento per aver concesso il Palazzauli facendo disputare la prima giornata di Serie B.